Quanto pesa su quest'operazione cavo? I mortacci del cavo! Quanto pesa? 244, ma stai registrando? Allora devo essere serio. In verità, pica questo che è più grande, ce l'ho già chiuso, se non me lo devo aprire. Vai, 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 intanto poi lo taglio. Uomini, il nostro compito di oggi è immane, ma con indomito coraggio riusciremo a portare questo cavo sul punto indicato. Siete? Siamo pronti? San Nicola, sei carico? Senti, secondo me conviene mettere la mazza e fermare. Due coglioni, San Nicola devi essere serio, indomito! No, siamo carichi San Nicola. Io sto pensando. Ma che cazzo devi pensare? Io sto pensando. Bisogna pensare. Dove dobbiamo arrivare oggi? Qual è l'obiettivo? Al meandro, all'inizio del meandro. Che stai facendo, scusa? Sto prendendo questo cazzo di era per non toglierla. E questa mattina, nonostante fossimo in perfetto orario, Gian Claudio ha dimenticato la stanga. Stai rompendo le scatole, tu hai la stanga. Io 5 minuti ci ho messo di ritardo. Il problema sei tu che vai a 50 all'ora, figlia mia. Mi sono scese le cose, gli zibidei, al di sotto di quelli che sono i miei piedi. Ho preso una multa ultimamente, sappilo. Ma non a 50 all'ora, figlia mia. A 50 all'ora veramente. No, detto da San Nicola, il martellone è veramente triste. Io mi sarei suicidato. Allora vai, andiamo a scendere, andiamo avanti. Vai. Ok, perfetto, 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 vai. Ok! 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 Sì, sì! Vai, vai! Lo devo venire a prendere? Ok! Gian Claudio ha salvato eroicamente la bovina dal legamento! No! 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 Ok! Ok. Dopo questa dichiarazione. Non lo facciamo? No, dai! Che stai? C'è un po' più bello. Sì, no, più bello. Sì, no, più bello. Ehi!